Con l'evento presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli abbiamo concluso una lunghissima camminata in giro per il mondo. Abbiamo visitato pizzerie in Asia, negli Stati Uniti, in tutta l'Europa, in Sud America, in Africa, fino ovviamente all'Italia per stilare la classifica delle migliori 100 pizzerie al mondo. Un evento straordinario con pizzaioli da tutto il mondo, una grande energia, un grande entusiasmo. Adesso l'obiettivo è continuare su questa strada per avere ancora più una fotografia reale di quello che è il mondo pizza di anno in anno.